Noi anniversario insieme a Marcus Ciao ragazzi Siamo su Gogeta O Broly, penso Gogeta Perché lui è il pupiglio di Gogeta Quindi non possiamo fare nient'altro E questo anno ci sono delle step up incredibili Tu quante sonai? 428 E ricordiamo che tre giorni fa ne avevi 100 Non mi ricordo com'era la storia che si ripete ogni tre anni Ora siamo a quattro se non sbaglio Avevi iniziato tu la prima volta Quindi ben quattro anni fa E ti è andata bene Poi ho iniziato io l'anno scorso E ti è andata bene Quindi inizio io C'era Wism Ma non penso che da solo faccia qualcosa Cioè non era da solo in realtà Però Non puliamo Oh Non Non Cioè non puliamo su Dokkan Penso dall'anno scorso E comunque Il che posso dirti Non è troppo un problema però Tu l'anno scorso hai schippato Sul canale perlomeno Le multi su Budget Blue E su Zamasu Davvero? Sì Non le avevi portate tu Anche perché non li avevi trovati in realtà Ecco perché non le ho portate Mi sa che avevo registrato Però non ho trovato nulla Oh C'è un bellissimo Freezer Tech Angel Non so se ti può interessare ma Ah Bello Tu hai visto no? Sì E sono anche molto felice Qua infatti Hanno molti insulti allora Oh ma ci sono i cosi Carini Ma perché a me non sono usciti I cosi carini? Oh Oh Diventa leve Bello Perfetto E' un di bella lui Zitta Quindi tocca di nuovo a me Eh sì Allora andiamo Con la seconda Summoning C'è Beerus Oh Trunks e Mei Comunque può Non mi piace Zeno 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 Mi dispiace Mi dispiace Io non so Non è vero Non mi dispiace Sono felicissimo Invece Devi esplodere Te lo faccio anche vedere così Guarda E' lui E' lui Beh ragazzi Questo video finisce qui No sto scherzando Oh Quindi la tua passi a Brody Non l'ho capito Posso dirti che ci sto pensando Ma esclusivamente per un motivo Ehm Hai proprio stanno Esatto Speriamo che ti si formati l'account Nel mentre io vado nella seconda Vediamo Let's Anzi guardo con te Anzi no no Oh c'è Beerus C'è Beerus C'è Beerus Potrebbe essere interessante Beerus Oh niente Zeno Vabbè dai Niente Zeno Vabbè dai Oh ma che figo Sono molto carine le animazioni Devo dire Whis Niente Vabbè che a me vuoi rarlo con il gioco Vuoi farmi divertire un pochettino E ci sta comunque L'attesa del piacere Anche se Eh Cosa Stavo in Stavo cercando di dire Che L'attesa del piacere È essa stessa piacere È una cosa che dicevano alcuni filosofi Non so Non la capisco Per il caso La tua gola è un piacere Per qualche oggetto Diciamo come dire Affilato Cose Del genere Potrebbe essere Potrebbe essere Devo dire Allora andiamo a Almeno un ability 1 Non so Qualcosa di mostro Che problema c'è Allora Krillin Trunks Qualcosa di brutto Mi può anche capitare Ci sta Mi è sembrato di sentire Un worry Ma non 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 Ne sono sicuro Valutiamo insieme Hai la finestra aperta O sbaglio Scusami Sì Ok Forse tra poco Ti arrivo un missile Ma non lo so Eh Sì Sì Sicuramente Però La fortuna è che siamo A Mille chilometri A passa di distanza Il che Questo mi aiuta Comunque Nulla Ti far matta Eh Io vado con l'altra Krillin All'altra Molte Eh Vai bro Qui 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 Potrebbe esserci qualcosa Qui c'è virus Quindi C'è per forza Wiz C'è per forza Sì dai Per forza No Eh Ma Sicuro che l'anno scorso È andata bene a me Non me ricordo questa cosa Sì No Questa cosa mi piace Devo essere Di andare bene a me Non a te Altrimenti Non può andare ogni anno bene a te Scusami E così E questa tradizione E quello è vero Quello è vero Ma bisogna rompere I cicli di Di Inezia Esatto Odio e guerra Quindi vado con la free Perché Perché Un netto dice che Le cose gratis Sanno più buone Che cazzo Eh C'è Vegeta però Tra i tizi vari Fusion 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 Bellissima Mi piace la Fusion No a me non piace Ecco È un Gogeta Super Saiyan Però Non so se c'è il blu Nelle animazioni Ci dovrebbe essere il blu In teoria E allora E allora Mi sa che Mi sa che Ah Ho solamente un PG Banner E comunque È solo un PG Banner Non è detto che Sia L'Ability 1 Effettivamente Di Gogeta Dai Paragas Paragus Paragas E infatti è un Vegeta LR Quello fisico Sì Quello fisico È quello che diventa Ok Quello che diventa LR Era Banner No Non dovrebbe essere Banner lui Perché un cannibal è come Se fu Vero Perché la Fusion Non ha Banner garantito Ma è un LR Che schifo Ma c'è un altro LR Freezer Full Power Un LR Che potresti trovare Gratis Non si trova Nel gioco Ma si trova Nelle impostazioni Le apri Su applicazione Mi si installa L'applicazione E ci sei Troppo forte Vado con la Free Anche perché Il gioco si rende conto Della tua invidia Quindi Ti rema ancora di più contro Dovresti essere più Accondiscendente Che bello Mi piace trovare Il nulla Guarda un po' Il banner di Gogeta Per capire Di Broly Scusa Per capire Oltre a Broly Chi posso trovare Zamasu ce l'ho Però forse a te manca No ma ce l'ho Zamasu zitto Ce l'hai Zamasu l'hai trovato E un Veget No Allora se non ti dispiace Io faccio lo switch Su Broly Per te va bene Ma fai quello che vuoi Ammazzati Avrei finito il giro Veramente È che non ho stonne Quindi non posso andare Su Broly Hai ragione Assolutamente Io devo finirlo Perché il gioco ha detto Guarda hai tante stonne Dai spieghiamolo un pochettino Quando trovo Broly Magari lo trovo subito Poi ritorno su Gogeta Se ti va bene Vado C'è un Vegeta Che male non fa Non c'è la fusione No no Qui mi sa niente le sgoschi È sempre una cosa buona Niente le sgoschi Per me E insomma No vabbè Per te sgoschi Devi calmarti Devi stare sulle tue Dimmi una cosa Sai cos'è una fluttuazione Descrivimela E quando tipo Quando le cose fluttuano Quando tipo stanno per aria Così Allora io Vado avanti Prego Sono nella seconda parte Della Della step up Attenzione Ouai da Ah Cos'è che è un ottimo segno Ah È proprio un ottimo segno Potrebbe esserci un pareggio A breve Anzi Un superazione Ah e non esageriamo Gogeta È il prossimo È il prossimo Gogeta È comunque LR però Quindi è un LR Vado allora Seconda multi Su Broly Che comunque La seconda era stata Quella buona O era la terza Non mi ricordo Veggeta di nuovo Che peccato Dai mi metti Vegeta Non puoi mettermi la Fuse Cioè Non mettermi la Fuse Che hai visto No 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 Goku e Vegeta insieme Ah questo vuol dire 3SSR No 3SSR No Oh 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 No Il God Dello scorso Anniversario Di due anniversari Fans Magari sono 3 LR Invece di 3SSR Secondo me No Speriamo Altrimenti Basta Cioè Il prossimo Non ci sarà Ma come Ma scusami Comunque io sto perdendo 2 a 1 Perché negli scorsi Anniversari Due anniversari Sei stato tu a vincere Quindi voglio dire Una volta Ripeto Le credenze E tradizioni Sono sempre quelle Non possono cambiare Secondo me Non possono cambiare Siamo tradizionalisti Quindi Adesso Gli ultimi Gli ultimi Dei multi Certo ho fatto quasi Un giro completo Sto andando Però Adesso ci siamo Secondo me Qui c'è qualcosa C'è un whiz C'è un whiz Che è un angelo Quindi Buon auspicio Pazzesco Un LR Perché penso Che sia Ah scusa Io sono felice per te Tu mi spari Non funziona così Perdonami Perché sei felice per me Stiamo gareggiando Devo entrare in modalità gara Vabbè Certo Fai pure Prego prego Continui E si continua E si Non ho vinto Perché in realtà Per adesso anche lo stesso Adesso sono Sotto Sotto di te Però Concetto Però tu avrai Tu avrai anche L'ultima multi Con banner garantito Quindi più possibilità di male Siete che banner garantito C'è anche Paragus E gli altri SSR Normali Non 11 Sì È molto Molto divertente È molto una fregatura Però Ecco come ho speso 280 stone Bello Io un pochino di meno Però Andiamo avanti Un attimo che stai laggando Tantissimo Ristabilisci un attimo Capisco che sei un po' triste Triggerato per il mio Però Ok Ci sono di nuovo Eccoti Grazie alla meditazione Tutto è funzionato Sì Vai Terza Terza multi Subroli Ok Non è Black gift Cioè ma Non c'era Luglia Non c'era Di niente Ma in che senso Eh vabbè Vabbè Com'è che si dice Il detto Posso farla velocissima Questa Vai vai Però sai Chi ha i denti Non ha il pane Un po' Un po' quello Vado con la cosa Free No con la cosa Garantita 50 stone in meno Che bello Vorrei anche Eh già sei alla multi Con banner garantito Sì Quindi c'è una fusion qui Possibilmente No No Però vabbè È comunque Banner garantito Quindi doppia Crack experience Esatto Uno Oh cacarotto E poi Oh cacarotto Niente cacarotto Io vorrei Tipo Metal Cooler O un altro Che non ho ancora Tipo Kid Gone Se non sbaglio Cambia Che comunque Eccolo Eccolo Paragus Banner garantito Garantito 50 stone buttate Tocca alla mia free Allora E poi tra l'altro Sai che arrivo anche Al banner garantito Del Di Broly Perché sono a 188 stone Andiamo intanto Con la free Sicuramente qui Ci sarà Broly C'è Beerus Che è No Beerus no Ma comunque C'è Wiz Sicuro al 100% Ah Fosse tra i pg Intendevo tra i pg Probabilmente ci sarà Un Wiz Da qualche parte Sì Mi piace questa parte Di video La tua depressione La tua testa Che si sta Piano piano abbassandosi Vegeta Super Saiyan 2 Vabbè Siamo comunque Pari ancora Quindi non smettila Tu smettila Sto pensando Continuo con lo stesso video O ne faccio un altro Penso Ne faccio un altro Potresti Anche perché io Devo partire Con il secondo giro Di Broly Quindi Basta così Allora Ci vediamo Un prossimo video Quindi Un prossimo video Domani Dopodomani Ciao ragazzi E vai Non sto Ciao ragazzi